7 febbraio 1906 Nasce Puyi, l'ultimo imperatore della Cina Incoronato a due anni, nel 1934 Viene nominato dai giapponesi imperatore dello stato fantoccio del Manchukuo Catturato dai sovietici nel 1945 E consegnato nel 1950 ai comunisti cinesi Viene internato in un istituto per la rieducazione Liberato nel 1959 Vivrà facendo il giardiniere nel giardino botanico di Pechino Muore il 17 ottobre 1967 La sua biografia ha ispirato Bernardo Bertolucci Per il film L'ultimo imperatore Per il film L'ultimo imperatore Per il film L'ultimo imperatore